Così come abbiamo il dovere di immaginare che un settore come il nostro, anche a condizione di bassi interessi e che pur riprende una sua dinamica di redditività attraverso le commissioni, beh non puoi immaginare di trasformare il lavoro nei nostri filiali a fronte di una loro riduzione, di un impatto sull'occupazione, in una sorta di nuova agenzia del cottimista per la quale le pressioni commerciali, pur avendo fatto noi l'accordo più avanzato al mondo, non solo in Italia, l'accordo più avanzato al mondo, dobbiamo essere consapevoli che fatto l'accordo, come ricordava Giussi nel suo intervento richiamando la vicenda di Unicredit e richiamando la mobilitazione, lo sciopero, ricordava a tutti noi che fare gli accordi è indubbiamente importante, importantissimo, ma fare gli accordi e farli rispettare lo è altrettanto. Per questa ragione dal palco del congresso a Lombardia mi sento di rivolgermi a Dabi e dire in modo netto e perentorio, e penso di poterlo dire in modo unitario, che per noi non è sufficiente. Avevi fatto l'accordo per contrastare le pressioni commerciali il 7 di novembre. A distanza di un anno e mezzo dobbiamo chiedere a Dabi di riconvocare le parti, fare una verifica mirata sullo stato di applicazione di quell'accordo, chiedere l'attuazione delle commissioni e di tutte le misure e aver chiaro, lo diciamo qui e ora, il nostro problema non è tanto quello di fare chissà quale nuovo accordo, ma diciamo adesso che nel chiedere questo confronto, Abbi deve aver chiaro, le banche devono saperlo, che se non procederanno all'attuazione immediata, concreta, tesa a ripristinare la dignità del lavoro e a limitare le pressioni commerciali, la categoria non potrà che andare alla mobilitazione, alla mobilitazione unitaria.